Ciao Gimba, qua per la vostra sfruttura Shakespeare Un po' tondeggiante, troppo tondeggiante, magari appena poi mi arriveranno il paio sostituitivo Spero che si potrà risolvere questo problema Comunque, eccoci qui in una nuova custom story, The Hattic Derek lives with his mother, his father is here to be serving to the country Derek has been alone with Derek's machine, Derek relies now that I'm also ready to make family Ok, dobbiamo scoprire i segreti della famiglia di Derek Devo dirgli la verità, diciamo, ci ho messo un po' tanto a pubblicare un nuovo video di Amnesia Perché la scorsa... la scorsa mappa era buggata e non sono riuscito a finirla Spero che questa, appunto, mi permetterà di completarla Ok, noi capiamo, questo è sicuro Entriamo anche qui dentro Una chiave Tutto tranquillo, perfetto Mi sembra giusto Spero, appunto, che questa mappa non sia troppo, diciamo, troppo calma Non mi piacciono le mappe troppo calme in cui mi devo... mi devo concentrare Ok, 16 years are past, have past I've never formally met my father The only time I knew him was when I was 2 My father has not been seen for 16 years Mother started drinking pretty heavily Non si beve madre She always tell me that father broadly let her home He is considered a scientist among some He was called into the line of duty Line of duty... ok To make chemical weapons for the war Nobody has ever made a weapon without something going wrong Let's just hope I see him in human form when he returns for the war What the fuck Spero... spera solo che lo ritrovi in forma umana quando tornerà dalla guerra Ed è una storia abbastanza triste Diciamo, un figlio che non vede il padre da 16 anni, ecco, perché è andato in guerra È una storia triste Ok, bedroom key Cerchiamoci che dietro questi quadri non ci sia niente Ok, possiamo andare Boh, andiamo addirittura ragazzi Andiamo un po' Qua... oh oh Ok, piccola ragazza Oh! Oh! It came from the attic The following trophy is over here The hell is jack on First person... Laudanum A casual... Non capisco più niente ragazzi So solo che devo andare nell'attico A scoprire... Eh... Andiamo dopo ragazzi Vediamo se la chiave è qui No! Ok, vediamo allora Torniamo indietro Proviamo ad andare di qua ragazzi Oh, questo si apre pure Oh, sì Fuck yeah Dell'olio Good, good, good Lol! Già avevamo dell'olio Io non me ne ero accorto Ma tanto qua Non c'è bisogno dell'olio È tutto luminoso Daniel Quindi stai tranquillo In realtà lo faccio per farmi forza Quindi... No, andiamoci dopo Andiamoci dopo Come sempre purtroppo Sono stupido Non mi tengo... Non tengo mai il conto di... Di quanto sto registrando Perché non voglio fare visori troppo lunghi Ecco Chiusa Vediamo se... No Chiusa Scendiamo sotto ragazzi È chiusa Vediamo se è questo No Ok, allora dobbiamo per forza andare là Third floor Fuck yeah Direi Boh, ci stava È... Lattico, lattico Mi sa che stiamo andando qua Chapter one Quindi potrebbe anche darsi che... Ok Potrebbe anche darsi che... Ehm... Lo... Ci sarà qualcosa qui Alcuni di voi mi hanno anche consigliato Il Nintendo Caster Horror Ma... Il Nintendo Caster Horror Suoni di campane Un organo Perlomeno sembra Ok, proviamo di là Nel Nintendo Caster Horror L'hanno fatto in troppi E poi... Non c'ho voglia di sentirmi dire Oddio Coppy P2P Per favore Quindi... A parte che già la so Quindi non mi spaventare Non mi spaventare più di tanto Il... Percorso che sto facendo È completamente Non senso Quindi Cosa starà caricando il gioco Di così pesante Perché il gioco carica Come lì Ma sono tornato indietro No, infatti Ah, infatti Mi sembrava fossi tornato indietro Ok Acciarino Se c'è una cosa Veramente Veramente In... Oh Sto facendo se c'è una cosa Oh Usperchiamoli Questi acciarini Inutilissimi Oh Tutto luminoso Dimmi che ne ho ancora Sì Oh No, non ne ho più Così Se mi servono acciarini Non ne ho più Serve qualcosa per romperlo Sedia Mi aiuterai Come al solito The following recipe For a work invention Description of Aisy Laudani's Herb Getting better Ingrediente Two quarters of human blood Fuck Krupana Viven E one piece of acid Of damned What the fuck Il famoso Laudano Che Tutti i giocatori di Amnesia Sperano di trovare sempre Oh Cospito Oh Cosa è accaduto qui Tutto troppo tranquillo Non mi piacciono le mappe Troppo tranquille ragazzi Perché So che succederà qualcosa Di brutto Da un momento all'altro Hop No dai Dimmi che posso fare parkour Mamma mia Daniel Sei veramente Il disonore Di questa famiglia Porca Ecco Acciarini Dico Se Ci fossero mancati Eccoli qui Dimmi che posso salire Come on Please Daniel Mamma mia Che essere inutile Daniel Che essere inutile Proviamo ad andare di qua Allora Ok Oh Questa si che è una stanza Questa si che è una stanza Di Amnesia No Ci entriamo dopo Vediamo qua Se troviamo Qualcosa Che ci possa aiutare Ciarini inuti Vaso finto Ok È utile di salire Ragazzi È utile di salire Perché sono molto Molto Spavaldo Mi piace Murilo spavaldo Ok basta Oh Caspita No Non mi piace Sto posto Una scopa Vuoto Andiamo nei cassetti Vuoti Acciarini inutili Ehi Ehi Chi ti ha fatto questo Mamma mia Chi ti ha fatto questo Amico Ciondolino What happened Proviamo di qui What the fuck Questa Mi manca la testa Oh 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 no Oh no Oh no Oh no Oh no What the fuck Questa la testa del tizio Perfect Come and go to my shop After singing This work out nicely Then I will try Laudano Oh Caspita Non ci sono neanche promemoria Il che non è nemmeno una bella cosa Secondo me Devo prendere la testa Non devo prendere la testa Oh my gosh Chi ti ha ridotto così Accendiamo io un cerino Per la notte non si sa mai E' bruttissima sta stanza Si è rincoglionito Oddio santo Oddio Oh 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 Jesus Christ Non dovresti andare qui, Derek. Non avessi il giudice. Non avessi il giudice. Non avessi il giudice. Daniel. Dai. Daniel. Come on, Daniel. Oddio, santo, cosa è sto tizio messo qua? Prima non c'era. Prima non c'era. Io non lo continuo, sto episodio. Ho paura, ragazzi. Ho paura, veramente. Prima era più tranquilla sta stanza. Oh, cazzo. Oddio mio. Acerino, acerino, acerino. Porca Peppa. L'avete visto pure voi? Era più tranquilla la stanza prima. Porca va. Do not touch my ris... Oh. Caspite... Caspiterina. Porca va. Ho paura, ragazzi. È lecito avere paura. Eh, non so dove andare. Ma è chiusa. Porca, porca. Oh! No. No, no. Non va bene, non va bene, non va bene. Mi nasconderò qui dietro. E tutto andrà per il verso giusto. E tutto andrà per il verso giusto. Tutto quanto si sistemerà. E Xburry potrà salvarsi per sempre. Oh, i brividi, oh, i brividi, oh, i brividi. Ho veramente i brividi. Sembrava una mappina talmente... Caruccia. Caruccia. Un paio di... Palline da tennis. Se n'è andato? Io non lo so. Penso di sì. Comunque. Comunque sia, io termino l'episodio qua, ragazzi. Oh! Un episodio... Combattuto. Sono contento di aver trovato la mappa giusta. Perché non mi va di fare mappe troppo... Strutturate, troppo lunghe. E impegnative. Boh, direi che per questo episodio è tutto. Se il video è piaciuto, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video per incentivarmi a farne di altri. Di mettere... Di iscrivervi al canale di Jinba qualora non l'aveste fatto, perché siete delle persone crudeli. E... E di dare anche un'occhiata al mio canale qualora voi siete interessati da questi video. Continuate inoltre a propormi le vostre custom story qua sotto nei commenti. Direi che già ho portato abbastanza, quindi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Amnesia. Ciao, ciao!